Seconda festa per il lavoro, al via domani, tanti temi importanti per una Messina che soffre dal punto di vista occupazionale. Sì, per una Messina che è in crisi, che è in crisi in un contesto nazionale, internazionale, ma anche che ha suoi elementi di crisi propri, endemici, e che vogliamo provare ad affrontare discutendone con altri soggetti, discutendo con altre soggettività, con gente che ha qualcosa da dire, con persone, personaggi che hanno qualcosa da dire, per provare a mettere insieme un po' di pensiero e vedere di affrontare il nodo della crisi e risolvere qualche problema, o dare qualche proposta per la soluzione di qualche problema. Perché se parliamo solo di spread, di debito e di conti in ordine, senza pensare al lavoro che manca, al lavoro che non c'è, al lavoro che si perde, alle condizioni in cui si trovano le persone che scivolano sempre di più verso la povertà, significa non pensare a nulla. Parliamo di un'economia a livello internazionale e nazionale in crisi, poi a livello locale in grave difficoltà. Sì, noi abbiamo un fatto che è questo. Oramai il mondo occidentale si trova da sei anni in una crisi profondissima. Questo rimette in discussione tutti i modelli economici che noi abbiamo vissuto. Noi pensiamo a alcune cose. Ci sono dei provvedimenti che devono essere adottati a livello europeo e a livello nazionale. Poi ci sono cose che possiamo fare qui, sul nostro territorio. Pensare al territorio di una provincia che ha delle vocazioni, che ha delle abilità, che ha delle risorse naturali che possono essere sfruttate, peraltro solo in questo territorio. Quindi è un lavoro che si può creare qui per dare risposte qui e all'economia e alle persone.